Artista tra i più affermati a livello internazionale, Giuseppe Penone, si confronta con il Parco Storico di Boboli e con la sfida che Forte Belvedere, restituito al pubblico lo scorso anno dopo una lunga chiusura, ha lanciato ad alcuni dei più grandi scultori del XX e XXI secolo. Prospettiva vegetale, la mostra che si apre domani a Firenze, le sculture sono dislocate tra gli imponenti bastioni esterni della fortezza fiorentina e il magnifico giardino di Boboli. Le opere dell'artista torinese creano una nuova prospettiva in un dialogo serrato tra scultura, architettura e paesaggio, ma anche tra presente, passato e futuro. Per un artista esporre in questo luogo è un rapporto diretto con quello che vediamo sotto, con la Brunellesca e tutta la ricchezza culturale di una città che è stata il centro di un certo modo di pensare alla cultura e ha influito su tutta la cultura dell'Occidente e non solo, probabilmente. Questo è, quindi, diciamo che è una, sotto un certo punto di vista è anche una sfida, perché ti mette in rapporto con qualcosa il cui valore è inestimabile. Gli alberi con le pietre sottolineano la forza di elevazione che ha l'albero rispetto alla forza di gravità, quindi il contrasto tra la forza di gravità e la forza della luce. La fusione, sono fusi in bronzo e la fusione avviene per forza di caduta, il bronzo entra all'interno della terra, quindi c'è in qualche modo un legame tra le due cose, tra la tecnica della fusione in bronzo e la crescita di un vegetale. Sono qualcosa che si avvicinano. La mostra rimarrà aperta fino al 5 ottobre.